Allora voi due stavolta partiamo da Mazzonetto, alla luce di quanto hanno esposto anche le parti politiche e poi anche chi ha le mani in pasta nelle aziende, che cosa si potrebbe prospettare a questo punto oppure dove sarebbe congruo trovare queste risorse, anche per dare un'immagine all'Europa di un certo tipo? Il primo obiettivo soprattutto è per darlo all'Europa, perché è una delle considerazioni che purtroppo gli altri paesi hanno dell'Italia e di chiamiamolo instabilità, instabilità di carattere politica. Cosa ci penalizza moltissimo. A lungo termine, cioè se noi pensiamo dal periodo della legislatura PD fino ad oggi, in sei anni quanti governi abbiamo cambiato? Quattro circa? Quattro. Allora se in sei anni cambiamo, torniamo a quello che ci avevamo detto prima, cioè se in sei anni cambiamo, abbiamo quattro governi vuol dire che un investitore, diciamo un stakeholder esterno che può essere l'Unione Europea piuttosto che un investitore, un'azienda che deve investire in Italia, ovviamente non ci considera un paese serio e su questo è fuori discussione. Pertanto come primo obiettivo, a mio avviso, è ovviamente sminare il problema dell'aumento dell'IVA. Però deve essere un problema che deve essere risolto in modo sistematico, cioè non è che dal 2011 fino al 2019 ogni anno abbiamo questo problema delle clausole di salvaguardia che ogni anno si ripresenta e quest'anno si ripresenta ancora in modo più marcato perché abbiamo le due operazioni di carattere che chiamano politico, cioè quota 100 reddito di cittadinanza che hanno impattato di più. Occorre prendere a volte, credo, delle indecisioni, decisioni che possono essere impopolari impopolari che potrebbero anche impattare significativamente sull'elettorato ma in modo tale da generare certezza all'esterno. Tipo? Concretamente dove andare, cosa toccare? Le imposte, incrementare le imposte, magari non l'indiretta ma l'ediretta perché il bilancio statale, sappiamo che abbiamo poche leve o riduciamo i costi e facciamo spendi review però credo che negli ultimi dieci anni abbiamo avuto dei risultati non proprio ottimali. E anche chi mandò via a Cottarelli tra l'altro? Cioè esatto, abbiamo mandato via anche Cottarelli che era l'uomo spendi review che era appunto destinato al taglio del... Però lo studio di economisti proprio alla fine è il risultato chiaramente che è molto depressivo toccare la parte delle imposte, tasse... È molto depressivo però è vero che noi abbiamo un altro problema che è l'Europa perché o tagliamo i costi o aumentiamo gli introiti, gli introiti li implementiamo in che modo? Aumentando le imposte oppure sollecitando l'economia in modo tale che sia maggiormente performante ma questo sappiamo che negli ultimi dieci anni in Italia si è dimostrato non applicabile perché abbiamo visto che il nostro prodotto interno lordo rispetto ai competitori europei è più debole debito non possiamo farne più di tanto perché? Perché noi ci troviamo, come diceva Patanostra, vincolati dall'Europa Però il problema è di essere vincolati dall'Europa dobbiamo anche un attimo inquadrarlo sul fatto che è una cosa che ci siamo cercate a noi Perché? Perché quando l'Italia ha deciso di entrare all'interno della Casa Comune Europea e adottare l'Euro uno dei costi che ha dovuto sostenere è la cessione di sovranità cosa che si vede nel mondo finanziario, nel mondo bancario, nelle leggi di bilancio Attualmente noi ci troviamo in una situazione economica estremamente ingessata dove se alziamo le imposte i consumi interni si riducono ulteriormente gli investimenti non avvengono, pertanto l'unica alternativa è tagliare i costi e tra virgolette scendere a patti con l'Unione Europea per cercare spazi di manovra tra cui investimenti pubblici, infrastrutture, cioè rendere di fatto quello che noi abbiamo reso negli ultimi dieci anni l'Italia un paese più competitivo Se l'Italia è più competitiva e più efficiente e soprattutto anche un'altra cosa molto importante che finora non abbiamo parlato qui una lotta estremamente forte all'evasione fiscale perché il nero in Italia e soprattutto le imposte che vengono evasi in Italia impattano tantissimo Pertanto anche il fatto di poter avere un gettito da tutto questo nero che è in Italia riuscirebbe di fatto anche a riequilibrare il sistema e soprattutto un'ultima cosa una, chiamiamola, una struttura politica che abbia sì un orizzonte temporale molto lungo ma non che ci troviamo ogni due anni ad avere un governo nuovo perché è come non avessimo un'azienda e ogni anno e mezzo cambia il consiglio di amministrazione il concetto è lo stesso cioè per avere un orizzonte temporale molto lungo noi non possiamo avere in Italia che in sei anni cambiano quattro governi Chiarissimo Adesso do la parola a lei Ma questo benito recupero di cui si parla tanto del fiscale, dell'evasione fiscale ma vera evasione fiscale non il povero contribuente che fa dei piccoli errori proprio i veri evasori che ce ne sono è mai possibile? E quando vengono, e anche per chiarire ai telespettatori quando vengono, non so, requisiti, beni voi alla mafia, voi alle associazioni criminose quant'altro, beni per valori, milioni di euro tutti questi beni, tutte queste risorse non fanno, tra virgolette, gruzzoletto non si riesce, perché non si riesce a combattere veramente chi sul serio evade oppure prendono una normativa che coinvolga grandi realtà aziendali estere che operano da noi, che non hanno una tassazione come le nostre aziende Ma sappiamo che la lotta all'evasione fiscale per quanto mi riguarda è un obiettivo importante di questo governo ma lo è stato anche con il governo precedente perché comunque posso dire con assoluta certezza che il problema non è da quest'anno e non è dalla legislatura precedente ma è una problematica che si ripercuote in Italia da sempre, che l'evasione fiscale allora una parte... Perché non si riesce secondo lei? Ma per sempre c'è il motivo perché intanto quando ci sono le tasse così alte molti imprenditori condivido il fatto che quello che penso io è che molti imprenditori in molti casi lo facciano anche per legittima difesa dal fisco perché è chiaro che quando c'è uno Stato che mi prende allora la tassazione è il 43% nominale ma alla fine se dobbiamo valutare tutto arriva anche il 60 e il 70% allora è chiaro che se un imprenditore deve morire di burocrazia prima e di tassazione dopo cerca tutte le maniere per cercare di far sopravvivere la sua azienda se stesso, i propri dipendenti, la propria famiglia detto questo che comunque non va bene ok c'è una problematica in Italia che la troppa burocrazia favorisce anche l'evasione fiscale le troppe leggi le leggi contorte, le leggi complicate le leggi che dico una cosa dopo mi dico un'altra questo favorisce anche una problematica che poi incide sull'evasione fiscale la semplificazione le semplificazioni che stiamo portando l'attenzione della Camera dei Diputati la prossima settimana vanno anche in questo senso meno leggi le leggi più chiare meno tassazione ok perché quando tu metti una tassa al 15% e poi un imprenditore non te la paga beh allora probabilmente c'è qualche problema semplamente il 70% posso capire che un imprenditore cerchi di fare il furbo per sopravvivere ma semplamente il 15% e poi nessuno la paga e qua c'è una problematica che va perseguita anche in maniera decisa e senza tanti tanti giri di parole chiudo dicendo che in Italia questa problematica riguarda molti punti di PIL di ogni anno l'evasione fiscale quindi se dall'inizio si fosse perseguita in maniera decisa importante e continuata probabilmente oggi il debito pubblico perché riguarda anche questo sarebbe molto più basso ecco e anche la credibilità italiana sarebbe molto maggiore Ponteri chiudiamo con lei io con una considerazione sono stati detti una valanga di cose ci vorrebbero un paio d'ore prendiamo l'ultimo esempio sull'evasione fiscale non sono mica andato d'accordo comunque con voi con nessuno di voi per un motivo molto semplice cito dati del Sole 24 ore l'evasione fiscale annuale di circa 187 miliardi però nel PIL vi ricordo che viene calcolata anche l'evasione fiscale della criminalità organizzata quindi di questi 187 miliardi riporto dati del Sole 24 ore il 48% è attribuibile alla criminalità organizzata quindi l'evasione fiscale è primo un problema di ordine pubblico e non di ordine finanziario perché se il 48% dell'evasione va a chi spaccia il problema è perseguire chi spaccia non fa pagare lo scontrino a chi non le mette quando beve un caffè il 22% va attribuibile alle società di capitale circa il 12% o l'8-12% secondo di come vengono calcolate dipendenti pubblici poi ci sono le SRL e i lavoratori autonomi il tema dell'evasione fiscale è un palliativo per giustificare la zero produttività della spesa pubblica in Italia esistono due forme di potere la gestione del credito e la gestione della spesa pubblica con la spesa pubblica il governo incarica come diceva giustamente lui gestisce il proprio consenso elettorale noi abbiamo una spesa in controcapitale che non da ieri da anni viene sempre ridotta a favore della spesa corrente perché la spesa corrente si trasforma o in qualche vantaggio per qualche elettore o in nuove assunzioni per cui il problema è che noi non è che abbiamo poco da spendere noi spendiamo male quello che abbiamo è come se noi avessimo la più bella nave in porto con degli squarci enormi nel serbatoio e continuassimo a buttare nafta e la nafta uscirebbe automaticamente dai serbatoi diciamo buttiamola ancora di più ma se noi non ragioniamo sulle terminologie e sulle dinamiche della spesa pubblica e quindi della produttività termine molto caro giustamente agli imprenditori perché quella della produttività è fondamentale ed è quello che permette alle nostre imprese di stare sul mercato se noi non interveniamo sulla spesa pubblica sugli effetti di questa spesa pubblica noi siamo appunto da capo anche se avessimo questi 187 miliardi di nuove evasioni fiscali rientrati nell'alvo della legalità non cambierebbe nulla perché noi continuiamo a scialare a destra e a sinistra buttiamo soldi a destra e a sinistra reddito di finanza 480 euro faccio un esempio la fretta forse qualcuno non se ne è accorto perché qua forse milioni non ne abbiamo tanti ma il governo Gentiloni ha messo la fretta sulle rendite finanziarie a 26% che favorisce ma è un caso tutte le rendite sopra i 750 mila euro quindi i famosi piccoli e medi risparmiatori sono stati penalizzati ultimamente faccio un esempio le regole finanziarie però le regole finanziarie tutti quanti sono stati benissimo in grado di mandare a quel paese Banca Etruria Popolare di Vicenza Veneto Banca quindi non imputiamo all'Europa quello che non siamo in grado di fare noi noi abbiamo e noi teniamo in nostra Italia ed è per quello che ritorno sempre a vecchio il concetto noi siamo alla fine di un ciclo un ciclo nel quale i partiti hanno nominato le persone incompetenti nelle varie cariche di governo nelle varie istituzioni e purtroppo siccome il mercato è competitivo che piaccia o no questo è si può anche essere contrarie io non dico che sia per forza un bene ma la Cina che è una dittatura può fare piani a 30 anni noi che siamo una democrazia non lo possiamo fare perché abbiamo il vincolo del mandato elettorale però noi in questo mercato compitiamo se noi io devo andare da un investitore devo chiedere quali sono le ragioni per le quali tu vieni io devo trovare delle occasioni perché lui venga a investire da me noi abbiamo dei saldi negativi finanziari negativi dal 2016 cioè di gente che disincentiva dall'Italia porta fuori i capitali perché non c'è nessun vantaggio al di là delle meravigliose eccellenze delle famose 4A sempre quelle tessere, abbigliamento calzatori, aeropelletteria arredamento agroalimentare plastica automazione che tra l'altro plastica verrà penalizzata anche dall'Unione Europea per cui noi dobbiamo capire noi cosa facciamo per attirare investimenti zero ma non da oggi da 10-15 anni quindi queste sono le problematiche che vanno affrontate detto questo io vi ringrazio entrambi grazie anche ai nostri ospi interlocutori sia politici che anche delle rappresentanze delle aziende ci sarà ancora da affrontare speriamo naturalmente che non ci siano aumenti che non ci siano tassazioni ulteriori per avere un manovra in qualche modo espansiva e non ovviamente opprimente per tutti detto questo torneremo su questi temi io vi lascio naturalmente adesso la parte del nostro esperto di finanza ringrazio i nostri ospiti buon proseguimento a dopo grazie che